Ciao cari formiche, questo è un piccolo vlog in cui vi annuncio che la formica si ferma per ben due settimane già voi quando vedrete questo video io sarò già a Torino, quindi a Torino mi farò due settimane di vacanza e niente, semplicemente vi volevo anche dire che io, Ikimoto, Lord, Black, in questi giorni in cui sarò a Torino in queste due settimane in cui sarò a Torino, volevamo organizzare un raduno, un piccolo raduno quindi tenetevi aggiornati sui miei social, qua su Youtube, comunque non vi perdete nulla perché anche sulla pagina Facebook della GIC metteremo qualche annuncio con orari e tutto ancora non sappiamo nemmeno noi quando farlo e dove, quindi per il momento non sappiamo nulla chi altro? Ah, ovviamente in queste due settimane i video e le live su Twitch non saranno tutte le sere come è stato sempre ma semplicemente si ridurranno, io mi porterò il portatile lì quindi spero comunque di riuscire a fare almeno qualche live in queste due settimane non vi so dire quando né perché, comunque c'ho la 300 mega lì, c'è la 300 mega che mi aspetta e niente, era un piccolo video, vedete che qua, da questa parte c'è la finestra, è notte e il 31 sera in verità, tra poco anzi sto per essere in ritardo, c'è che devo andare in live praticamente e qua dietro di me vedete che c'è la valigia così pronta, che è un valigione gigante è pronta la valigia quasi, mancano alcune fesserie qua c'è quella che, quella di prima che è anche molto più bella che è quella della Disney con Paperino, Topolino eccetera eccetera con tutto il mondo Disney, è spettacolare con la valigia solo che è troppo piccola, non mi ci entrano le cose perché due settimane comunque sono tante comunque signori, io penso che la stacco qua anche perché devo andare in live e quindi, e quindi niente dai, ci vediamo in questi giorni e ci vediamo chi può ovviamente a Torino al raduno vi faremo sapere ciao ciao spegni, stacca, stacca